Play-off e salvezza si incrociano nelle sfide che attendono le altre siciliane della Lega Pro nella 35esima giornata e il caso di Acragas Casertane in programma alle 14.30 all'esseneto con gli agrigentini carichi, concentrati e determinati per una partita che vale una grossa fetta di salvezza diretta. Di Napoli vuole riscattare la sconfitta con la Paganese e deve fare i conti con l'assenza per squalifia di Palmiero e degli infortunati Bramati e Cochis. È un autentico scontro salvezza invece il match tra Messina e Melfi in programma domani al Franco Scoglio sempre alle 14.30. Lucarelli sta caricando la squadra perché in caso di Vittoria e Giallorossi metterebbero una serie ipoteca sulla permanenza. Mancini si è bloccato e potrebbe partire dalla panchina da decidere chi giocherà al fianco di Milinkovic vista l'assenza dell'infortunata Anastasi. A Siracusa invece si respira tutt'altra area, quella dell'alta classifica, anche se la squadra di Sottil è attesa da una trasferta insidiosa a Catanzaro contro una formazione in piena zona play-out. Tra gli R2-6 rientra Catania mentre squalificato Valente. Si va verso la conferma del 4-2-4 con Palermo favorito su Giordano. Non convocato Pirrello, Cosentino pronta a giocare dal primo minuto.